C'è un nuovo emblema in città ed è chiamato Simulazione Sonica. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su The Guardians, qui Shanks in questo video inusuale dove voglio spiegarvi come ottenere questo emblema chiamato appunto Simulazione Sonica che a me è piaciuto tantissimo sin dal primo momento in cui l'ho visto. Ad alcune persone questo emblema farà un po' storcere il naso perché è legato ad un acquisto del Bungie Store. In particolare acquistando il Funko Pop di Osiride Dorato, esclusiva appunto del Bungie Store, otterrete questo emblema esclusivo. L'emblema è legato solamente a questo acquisto di questo Funko, quindi se siete amanti dei Funko diciamo che prendete due piccioni con una fava. Il costo totale sia del Funko sia delle spese di spedizione si aggira intorno ai 20€ se scegliete il metodo base e l'oggetto vi verrà spedito a fine maggio non appena sarà disponibile. L'emblema però lo avrete subito, infatti riceverete due email, una di conferma del vostro ordine mentre la seconda con le istruzioni per ottenere e successivamente riscattare il codice. Una volta messe le mani su quest'ultimo recatevi su Bungie.net, accedete col vostro profilo ed entrate nella sezione riscatta codici cliccando semplicemente sull'immaginina del vostro profilo. riscattate il codice e troverete l'emblema all'interno del gioco. Se avete più account di più console collegati, quindi se avete sia PlayStation 4 che Xbox che PC, troverete l'emblema su tutte queste piattaforme. E sostanzialmente questo è tutto quello che dovete sapere su come ottenere questo emblema che di nuovo a me piace tantissimo. Da Shanks è tutto, ci rivediamo alla prossima. Ciao! Iscriviti al nostro canale!